In Star facciamo il ragù di casa per tutte le famiglie italiane. Invece di due carote ne usiamo 130 kg. Invece di tre atti di carne ce ne mettiamo 600 kg. Gran Ragu Star, come lo fai tu ma più in grande. Star in famiglia. Il Gran Ragu lo facciamo anche con la salsiccia fresca. Provalo!